I tifosi dell'Ester in lutto continuano a portare fiori, sciarpe e striscioni davanti al King Power Stadium, dove campeggia la foto del patron, Vichai Srivadhanaprabha, morto nello schianto del suo elicottero sabato insieme ad altre quattro persone. È stato l'uomo del miracolo del 2016, con l'allenatore Claudio Ranieri, portò a sorpresa per la prima volta nella storia il Leicester in vetta alla Premier League. La società ha pubblicato un commosso ricordo sul suo sito web e ha annunciato l'apertura di un libro delle condoglianze online per coloro che non possono recarsi allo stadio. In queste ore si moltiplicano i tributi da tutto il mondo a questo leggendario personaggio di origine tailandese. Un'indagine dovrà chiarire le cause dell'incidente. L'elicottero era appena decollato dal campo da gioco del match Leicester-West Ham. Testimoni dicono di averlo visto avvitarsi su se stesso, prendere fuoco e precipitare in un parcheggio vuoto. Le altre vittime sono due collaboratori del patron, il pilota e un ospite polacca.